Ti piacerebbe finire così? Credo proprio a nessuno, anche perché il malcapitato si era rotto una clavicola e se seguirete con attenzione il video ci arriviamo. C'è un errore nella guida sportiva sia in pista che su strada che molte persone fanno senza neanche rendersene conto. Sapete che non faccio moltissimi tutorial perché ho sempre il timore che non tutti capiscono o che qualcuno malinterpreti quello che dico infatti preferisco sempre che le persone vengano a backpack racing di persona che lì non ci sono fraintendimenti. Per chi non lo sapesse backpack racing è la consulenza barra corso che svolgo in pista nella quale aiuto le persone a migliorare la propria guida in relazione all'utilizzo e al miglioramento della loro moto attraverso un sistema basato sulle telecamere. Vi lascio il link del sito in descrizione così potete andare a vedere di che cosa si tratta. Detto questo nel video di oggi vediamo un grave errore che mette a rischio la sicurezza di chi guida e degli altri. E sapete cosa? Un sacco di persone ci rimangono male quando glielo faccio vedere perché vi assicuro che la percezione di quello che facciamo in moto a meno che non siamo un pilota molto esperto può essere molto diversa dalla realtà. Ragazzi, persone distrutte, incredule che però almeno ora sanno di avere questo problema e possono risolverlo lavorandoci. Ora facciamo una scommessa, iscrivetevi al canale sulla fiducia o se mi seguite già controllate di esserlo per davvero perché alla fine del video non ve ne pentirete. Veniamo a noi, qual è il problema più grande per il motociclismo? Il controllo della moto. E sia in pista che su strada è importante trovare i giusti punti di frenata e calcolare le distanze. I motociclisti amatori o meno esperti quando girano in pista ci mettono 100 anni a prendere il ritmo i primi turni frenano 1000 km prima della curva e su strada non capiscono mai bene le distanze. Se vi ricordate e vi consiglio vivamente di andare a guardare questo video avevo fatto un altro tutorial dedicato al prendere riferimenti grazie al metodo del tirare le marce. Brevemente, se cambiamo in maniera imprecisa possiamo guardare il cartello tutto il giorno o la linea bianca che arriveremo sempre a velocità diverse. Ovvio, e lo dico per essere chiaro che su strada non possa valere questa regola in quanto non possiamo tirare le marce come se fossimo su pista giusto per essere chiare. Nella sequenzialità delle cose abbiamo una accelerazione e poi una frenata. Sia in strada che in pista partiamo da un punto per arrivare a un altro. Quindi dopo aver accelerato arriviamo in prossimità della curva che è lo scoglio più grande. Non per la curva in sé ma perché per fare le curve bisogna frenare e la frenata è una delle fasi più difficili e complesse della guida in moto. Ovviamente in un video non starò qui a spiegarvi tutta la tecnica anche perché non è il focus di questo tutorial ma prendiamo per buono che sappiamo fare tutto. Oppure anzi facciamolo ancora più facile facciamo che siamo anche un neofita che frena seduto centrale sulla moto. Non fa differenza perché comunque tutti e due quando sarà il momento dovranno frenare. E qui arriviamo al punto interessante del video. Qual è l'errore e qual è la maniera corretta? Quella di alzarsi e frenare quindi accompagnare il gas e immediatamente prendere il freno. Attenzione per i più esperti non parlerò dell'intensità frenante e delle diverse metodologie di frenata ma parliamo solo di frenata senza entrare nello specifico. Quindi guardiamo prima alcuni miei video poi guardiamo cosa fanno i pro e poi lo vediamo sulla moto. Grazie a tutti. 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 che ve lo state chiedendo. Ah ma Edo ma quindi devo srotolare la manopola per far chiudere il gas e poi frenare? No. Assolutamente no. Anche perché immaginatevi è irreale. Cioè come si può aprire la mano mentre si va? Cioè o meglio sì la posizione in sella è fatta per avere le mani morbide il più possibile ma immaginate prima di staccare dover aprire la mano per far srotolare il gas. è una follia. E quindi qual è l'errore che molte persone fanno? È quello di chiudere il gas tornare indietro con la mano e poi prendere il freno. Quindi chiudono il gas senza andare direttamente sul freno ma si accertano di averlo chiuso tornano indietro e poi frenano. E questa cosa è gravissima e adesso vi spiego con il gas partiamo dall'inizio perché succede poca dimestichezza rigidità sulle braccia che è normale che ci sia perché se fai così evidentemente non sai come o quando posizionarti e fare tutti i movimenti nella sequenza e con il tempismo giusto poi una delle regole di base dell'andare in moto è che la moto per funzionare al meglio deve sempre avere un carico quindi o acceleriamo o freniamo anche su strada semplicemente lì si farà molto meno e molto più delcemente la regola di avere poca fase neutro è perché quando la moto in trazione è sempre più sicura e più stabile e quando finisce questa fase il carico da qualche parte deve spostarsi sulla ruota anteriore quindi facendo questo gesto ci sono due problematiche una legata alla prestazione perché andrai piano e non capirai perché e non troverai riferimenti ed una legata alla sicurezza perché tornando indietro con la mano rischiamo inavvertitamente di riaccelerare che è quello che è successo alla persona di questo video che avete visto all'inizio del tutorial a proposito di fase neutro tendiamo sempre a considerare quella dopo il rilascio del freno e mai questa ma forse è più importante questa perché l'altra non potrai mai eliminarla se non risolvi il problema a monte ovvero quando la frenata deve iniziare questi sono i dati della mia acquisizione montata sull'RSV4 che uso per correre e sulla quale a Bernò ho fatto girare Sergio in questo caso ci sono circa una decina di secondi di differenza considerate che Sergio è un amatore ci mette più tempo a abituarsi a moto nuove ma di solito sta circa a 5 secondi da me la linea rossa è il gas la linea azzurra è la pressione freno e vedete come nel punto in cui il gas è a zero passa del tempo e poi inizia il freno se invece guardiamo i miei dati la chiusura del gas è decisa non incerta e soprattutto non c'è spazio fra quando chiudo il gas e quando inizio a frenare considerate che c'è un sacco di gente che va discretamente forte a livello amatoriale e guida così ma quello che poi alla fine gli manca è la frenata e devo dire nella casistica delle persone analizzate questo errore è molto presente dove c'è il gas elettronico perché il gas elettronico è risaputo che sia un pochino meno reale quindi un pochino vuoto in questo caso questa r1 è montata con un gas rapido di jet prime che vi ho fatto vedere lo utilizzo anche sull'aprile rsv4 che è fatto in modo ed è fatto apposta perché ti renda la sensazione di avere ancora il vecchio filo quindi il fatto di non sentire bene che cosa succede accentua questa cosa qua da quando esiste backpack sotto queste telecamere sono passate centinaia di persone e devo dirvi che la percentuale di chi sbaglia è molto alta ovviamente c'è chi lo fa più velocemente che è più lento che è più impacciato che è più sciolto e questa cosa è strettamente influenzata da amore coraggio situazione ed altri fattori che non aiutano il controllo della moto quello che ne consegue è che saremo mega imprecisi in frenata e che non capiremo mai dove frenare come per il tirare le marce andare in moto è molto complesso ed abbiamo bisogno di riferimenti per creare ripetitività e fare uno storico mentale per avere delle sensazioni sulle quali puoi spingere e cercare di migliorare lasciare spazio quindi tempo fra quando chiudo il gas e prendo il freno è gravissimo perché la moto percorre dei gran metri a quella velocità e se non stiamo né accelerando e né frenando non siamo padroni di quello che fa la moto e siccome non siamo dei computer non saremo in grado di calcolare dal giro prima dalla sessione prima e quindi nessuno storico e di conseguenza nessun riferimento quindi che cosa succede che freniamo molto 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 piano per paura di sbagliare infatti la differenza maggiore fra pilota e amatore sta proprio lì molti hanno a disposizione moto competitive moderne pneumatici performanti e gli danno anche un gran gas infatti se hai coraggio una buona moto e delle buone gomme ti puoi inventare nel dare gas rischi ma con i controlli di oggi puoi avvicinarti più o meno a quello che fa un pilota ma in frenata ragazzi lì non ci si inventa e lì si vede veramente chi ha fatto un determinato tipo di percorso e chi no oltre a questo nel movimento c'è un pericolo immenso ed è quello di riaccelerare inavvertitamente per far tornare indietro la mano nel momento in cui poi dovremo schiacciare il freno ed è appunto il video che avete visto all'inizio quindi frenare mentre stiamo riaccelerando capite facilmente che può essere molto pericoloso e attenzione non pensiate che sia una cosa solo da neofiti ci sono molte persone che vanno anche forte a livello amatoriale e che fanno questa cosa qua sergio ad esempio con il quale giro sempre ed abbiamo due moto praticamente identiche è un amatore direi veloce che a 55 anni a cremona fa il suo bellissimo 41 al mugello gira più o meno 2 4 e comunque ha questa problematica qui infatti il suo tasto dolente è proprio la frenata come possiamo fare a risolvere questo la prima cosa è la pratica e questo mi sembra abbastanza banale ma prima di provare è bene capire un concetto fondamentale la posizione in sella i movimenti e le regolazioni di angoli leve e triangolazione sella pedane manubri sono fondamentali per fare il lavoro assicuratevi di essere in bolla con tutte queste cose e poi esercitatevi inoltre per i meno esperti è sempre meglio utilizzare moto meno veloci con meno cavalli perché avere meno potenza ci permetterà di non essere in balia del mezzo ed avremo anche il tempo di pensare a quello che stiamo facendo fra una curva e l'altra infatti se avete visto il video del mega unboxing lì ho fatto vedere tutto il materiale che ho comprato per allestire un r3 che useremo a backpack per far capire alle persone le varie dinamiche di guida in una situazione molto sicura e a bassa velocità bene siamo arrivati alla conclusione io spero che questo tutorial vi sia piaciuto fatemi sapere se vi ho fatto riflettere se lo fate anche voi se siete riusciti a togliervi il vizietto qualora ce l'aveste avuto e qual è stata la sensazione like commento condivisione d'obbligo per supportare il canale noi ci vediamo in frenata ciao